I segreti rivelati successivamente all'iniziato sono tre, sebbene includano dei misteri minori rivelati precedentemente. Alla terza iniziazione, subito dopo il giuramento, all'iniziato viene rivelato il primo dei tre misteri fondamentali del sistema solare. In mancanza di termini più idonei possiamo chiamarlo il segreto dell'elettricità. In mancanza, anzi, esso concerne i fenomeni della manifestazione oggettiva densa del logos. Lo studioso ricordi che i tre piani dei tre mondi fisico, astrale e mentale, costituiscono il corpo fisico denso del logos solare, mentre i quattro piani superiori ne sono il corpo eterico. Spesso si dimentica che i nostri sette piani sono i sette sottopiani del fisico cosmico. Ciò ha una ben precisa importanza per il segreto dell'elettricità ed è per questo motivo che non è rivelato fino alla terza iniziazione. Questa rivelazione è preparata da quella di due segreti minori riguardanti il piano fisico e quello astrale, comunicati dal bodhisattva alle prime due iniziazioni. I fenomeni elettrici sono scientificamente riconosciuti di natura duplice, ma la loro inerente triplicità è ancora solo materia di speculazione. Alla prima iniziazione essa viene dimostrata e viene rivelato il segreto per equilibrare le forze sul piano fisico producendo così equilibrio. Questo segreto pone anche in contatto con alcuni costruttori del piano fisico a livelli eterici e l'iniziato può produrre fenomeni fisici ogni volta che gli sembra opportuno, ma raramente lo fa, poiché i risultati ottenuti in questo modo hanno in realtà una scarsa importanza e l'iniziato non spreca energia in questo modo. Coloro che operano con le forze involutive, i fratelli delle tenebre usano questo metodo per sbalordire e assoggettare gli ignari. I fratelli dell'umanità non lo fanno. All'iniziato viene rivelato il segreto della coesione dell'atomo e allora egli può studiare il microcosmo seguendo, anzi secondo la legge delle corrispondenze in modo nuovo ed illuminante. Inoltre, grazie a questa rivelazione che riguarda la parte più densa del corpo logoico, egli può accertare molti fatti del precedente sistema solare e della prima ronda del nostro schema. Questo segreto è stato chiamato il mistero della materia. Alla seconda iniziazione gli è rivelato il segreto del mare e grazie a tale rivelazione due soggetti di profondo interesse diventano chiari alla visione interiore dell'iniziato, ovvero il mistero della luce astrale e la legge del karma. Dopo di ciò egli è in grado di fare due cose senza le quali non può eliminare gli ostacoli e raggiungere la liberazione. Egli può leggere nei memoriali della cascia e riconoscere il passato ciò che gli consentirà di lavorare con intelligenza nel presente, di cominciare ad equilibrare il proprio karma, quindi ad eliminare i debiti, a comprendere come si annulla il karma nei tre mondi. Il rapporto della gerarchia di esseri spirituali connessi con la legge del karma nei suoi effetti sull'uomo a quel punto diviene evidente. E l'iniziato ora sa per conoscenza diretta che i signori del karma non sono un mito o entità simboliche, bensì delle entità di intelligenza superiore che dirigono la legge per il bene dell'umanità, consentendo in questo modo agli uomini di diventare pienamente autocoscienti, autosufficienti in senso occulto e dei creatori in virtù della perfetta conoscenza. Alla terza iniziazione infine gli è rivelato il segreto di Foat e con esso gli si rivela il mistero del triplice corpo del triplice logos, mentre al suo sguardo stupefatto appare il perché dei fenomeni dei corpi liquido e gassoso dell'essere supremo. Poiché i due segreti precedentemente comunicati e la conoscenza che hanno recato sono stati utilizzati, ora l'iniziato potrà riprofitto da questa grande rivelazione e quindi comprendere anche, seppur parzialmente, il processo creativo di costruire forme pensiero, la trasmissione di energia dall'ego al corpo fisico attraverso i centri di forza sui vari piani e l'ascesa di Kundalini con la sua progressione geometrica che vivifica tutti i centri. Con tali conoscenze e con il progresso fatto nello studio della legge di analogia, l'iniziato può comprendere l'uso delle medesime forze su scala molto più vasta nello schema quindi planetario e in quello solare. Gli viene rivelato il metodo di sviluppo usato nelle prime tre ronde ed egli comprende sia in teoria che in pratica i primi tre stadi del processo evolutivo. Possiede la chiave dei tre regni inferiori della natura e certe idee sulla polarità, l'unificazione e l'unione essenziale che cominciano così a penetrare nella sfera della sua coscienza in attesa che la rivelazione si completi alla quarta iniziazione. Ebbene il segreto dell'elettricità che è essenzialmente triplice riguarda l'aspetto Brahma o terzo aspetto ed è talvolta indicato come il segreto di Brahma o come la rivelazione della madre, il segreto della forza di Foat, il mistero del creatore e il segreto dei tre scaturiti dal primo che è il sistema solare. E poi ci sono anche quattro espressioni mistiche che sono molto illuminanti e che sono il vascello del mistero che solca l'oceano, la chiave del divino deposito, la luce che guida attraverso i tre antri della tenebra, infine la chiave dell'energia che unisce fuoco e acqua. Da tutte queste espressioni chi le mediti attentamente ricaverà molte conoscenze, se verrà presente, se terrà presente, che si riferiscono all'aspetto Brahma nella sua manifestazione inferiore e ai tre mondi umani. In tale meditazione lo studente dovrà riferire l'attuale sistema solare a quello precedente nel quale predominava l'aspetto Brahma come l'aspetto Vishnu o coscienza perché predomina in questo. Con la conoscenza che ora possiede l'iniziato è in grado di comprendere la propria triplice natura inferiore e perciò stabilisce un equilibrio con la natura superiore. Può leggere i memoriali e comprendere il proprio posto nel gruppo. Egli può usare le forze nei tre mondi e procedere alla propria liberazione, contribuendo così ai fini evolutivi e può anche cooperare con intelligenza ai piani del logo seplanetario che tra l'altro li si rivelano progressivamente. Ora può usare il potere e diventa un centro di energia molto più potente, essendo in grado di distribuire o anche di ritirare le correnti di forza. Quando un uomo è coscientemente potente sul piano mentale il suo potere di fare del bene è centuplicato. alla quarta iniziazione gli viene rivelato un altro grande segreto che è il mistero della polarità. Questo conferisce la chiave per comprendere il significato del sesso in ogni settore della natura e su tutti i piani. Non è possibile dire molto a riguardo, tranne che indicare alcuni fatti di cui è la chiave e aggiungere che per il nostro schema, dato il grado evolutivo del logos planetario, questo segreto è il più vitale. Il logos sta coscientemente cercando l'unione con il suo polo opposto, un altro logos planetario. I fatti sui quali tale segreto getta molta luce sono il sesso sul piano fisico, che ci dà la chiave del mistero della separazione dei sessi ai tempi della Lemuria, l'equilibrio delle forze in tutti i settori della natura, la chiave per conoscere lo schema che forma una dualità con il nostro, il vero nome del logos planetario e il suo rapporto con il logos solare, il matrimonio dell'agnello e l'enigma della sposa celeste. Un indizio si trova nel sistema solare da interpretare astrologicamente. Infine il mistero dei gemelli e il rapporto del nostro logos planetario con quella costellazione. Su scala minore, e con riferimento al microcosmo, le questioni che vengono illuminate quando l'iniziato riceve il secondo grande segreto o il quarto, che include i precedenti minori, sono i processi di unificazione fra i diversi regni della natura. Quindi gli viene mostrato il collegamento fra questi regni ed è lì comincia a scorgere l'unità dello schema. Il metodo dell'unificazione egoica che si rivela chiaramente, l'antaharana è detto, che appare nella sua vera natura e che non se ne può più fare a meno poi. E infine, anzi no, penultimo, l'unità essenziale esistente fra l'ego e la personalità e infine il rapporto fra le due evoluzioni, cioè quella umana e quella devica, che quindi non è più un mistero. E anche la loro posizione nel corpo dell'uomo celeste che diventa un fatto riconosciuto. si potrebbe continuare a delincare i numerosi soggetti che il mistero della polarità, una volta svelato, chiarifica all'iniziato. Ma quelli che abbiamo citato sono sufficienti, spiega la Bailey. Questo segreto concerne principalmente l'aspetto Vishnu, che è il secondo. Esso riassume in brevi parole la totalità della conoscenza acquisita nell'aula della saggezza, come i segreti precedenti riassumevano quella ricavata nell'aula dell'apprendimento. Si riferisce alla coscienza e al suo sviluppo per mezzo dell'aspetto materia. Riguarda letteralmente l'unificazione del sé e del non sé, fino a che non siano realmente una cosa sola. Alla quinta iniziazione, al maestro stupito e attonito, viene rivelato il grande segreto dell'aspetto fuoco o spirito. In un senso incomprensibile all'uomo, egli realizza che tutto è fuoco e il fuoco è tutto. Questo segreto gli rivela il nome segreto del logos planetario, svelando così una sillaba del nome del logos solare. L'opera è il metodo dell'aspetto distruttore della divinità, i procedimenti mediante i quali sono indotti l'oscuramento e il pralaia, la formula matematica che riassume tutti i cicli della manifestazione e infine la triplice natura del fuoco e l'effetto del fuoco maggiore su quello minore. Poiché l'aspetto scivolo, cioè il primo aspetto, giungerà alla perfezione o piuttosto diverrà comprensibile, nel prossimo sistema solare è inutile proseguire nella considerazione di questo segreto. Bene, la sorgente di ogni energia dunque è sempre un aspetto del sole. Abbiamo visto con il segreto di foata la terza iniziazione il sole fisico, con il segreto di polarità alla quarta il sole soggettivo, quindi il primo era Brahma, adesso è Vishnu e mentre nella quinta iniziazione abbiamo il segreto di fuoco, cioè sciva distruttore, ovvero sole spirituale centrale. Infine alla sesta e settima iniziazione vengono svelati altri due segreti, uno minore che prepara alla rivelazione del quarto segreto. Soltanto quattro segreti maggiori sono rivelati agli iniziati del nostro pianeta e in ciò vi è la chiave della nostra posizione nello schema dell'evoluzione solare. I segreti maggiori rivelati in questo schema solare sono soltanto cinque, poiché in esso il quinto principio mentale è la principale base di sviluppo. La quinta rivelazione è riservata a coloro che passano agli schemi di sintesi. Ci vedremo presto con il prossimo capitolo e i diversi tipi di iniziazioni. Ciao!